Venerdì 4 settembre, ore 21, una puntata insolita e speciale, assolutamente da non perdere, di Polifemo l'occhio di Abate, in onda su Viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, alle ore 21. Una puntata incentrata interamente sulla seconda festa dell'USB, Unione Sindacale di Base, all'insegna dello slogan Io non dimentico, una trasmissione che ripercorre un po' tutti i momenti di questa festa, dal dibattito con vari soggetti istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ma anche la carovana per la tutela della sicurezza sul posto di lavoro, e poi i momenti ludici, tipici di queste feste, di questi momenti di aggregazione. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, dunque una manifestazione che vuol dire tanto sotto l'aspetto dell'impegno sociale e sindacale innanzitutto. Sì, noi stiamo cercando di risvegliare le coscienze, quelle che per troppo tempo hanno fatto finta che il problema della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente a Taranto non esistesse. Quindi noi siamo contenti di organizzare questa manifestazione perché lo scopo è uno scopo di carattere sociale, di aggregazione, di far capire alle persone che è assurdo morire sui luoghi di lavoro, morire di lavoro nel 2015. Dunque lo slogan, io non dimentico, per non dimenticare chi non c'è più, chi è morto all'interno dello stabilimento come lavoratore, ma anche chi è morto all'esterno a causa dell'inquinamento ambientale. Io non dimentico, ma lo facciamo e lo faremo anche con il sorriso, perché in questa città non ci devono essere odi e vendetti, ma c'è solo sete di giustizia. Dunque una puntata particolare, seconda festa dell'USB, lo ripetiamo, venerdì 4 settembre, ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, è in replica domenica 6 settembre alle ore 14.30.